Penso, la gravità mi sembra abbastanza alta, però io parlo in negozio, i clienti non ne parlano tanto. Io sono piuttosto preoccupato, eccolo lì. Lo scontro tra Ucraina e Russia diventa sempre più uno scenario possibile e concreto, aprendo con sé innumerevoli scenari. Sul piatto ovviamente anche la stabilità dei prezzi delle materie prime legate al mondo dell'energia. La situazione arriverà a toccare concretamente anche gli italiani? Siamo scesi per le strade di Biella per sentire le percezioni e i pareri dei nostri concittadini. La situazione tra Russia e Ucraina diventa sempre più concreta e spaventosa. Lei come la percepisce questa situazione effettivamente? Cosa gestita da persone che non hanno sale in zucca, non pensano anche ai nostri giovani, che esempio hanno davvero. La situazione tra Russia e Ucraina diventa sempre più concreta, spaventosa e paurosa effettivamente. Come noi italiani possiamo percepire la situazione? Potrà la situazione effettivamente toccarci mai sul vivo? Secondo me sì, perché comunque politicamente l'Ucraina è anche vicino a noi e quindi attaccherà politicamente l'Italia. Tranquilli, tranquilli, non abbiamo nessun, non saprei nessun problema per il momento, penso, a parte il gas. Comunque c'è senza altra preoccupazione, anche se non ho capito se è la Russia che proprio vuole invadere l'Ucraina o se sono gli Stati Uniti che stanno fomentando dietro, secondo me. E secondo lei questa situazione potrà andare a influire sulle nostre vite quotidiane? Certamente. In che modo? Nei costi, gas, benzina e tutto. Penso più quello lì che inciderà sulla nostra vita. La gente non so se già recepire, se dicono come hanno detto che il gas andrà alle stelle, non so come faremo ad andare avanti con le spese che ci sono. Sicuramente qualche conseguenza ci sarà, perché con il gas e tutte le energie che siamo dipendenti dall'estero, specialmente Ucraina e Russia e via dicendo, penso che ci sarà qualche conseguenza. Secondo la tua percezione la situazione potrà risolversi in maniera diplomatica o si arriverà inevitabilmente allo sconto armato? No, secondo me non si arriverà allo scontro con le armi, ma sarà un accordo diplomatico tra le nazioni. A livello diplomatico secondo me, senz'altro. Non lo capisco più, non so se gioca o se è vero. Una persona non saprei dire, mi sembra un mezzo bandito. Poi non so, magari può darsi che giochi su queste cose, magari un domani cederà, però da come sembra, sembra di no.